C'è non è di Natale sempre più caro, quest'anno costerà il 5% in più rispetto all'anno scorso. La stima è del Codacons che rileva per alcuni prodotti come il pesce anche rincaria due cifre l'aumento del 31,6% in 12 mesi. Prezzi alle stelle anche per le arance tarocco che crescono del 34,6%. Così per una cena da 8 persone in casa si spenderanno circa 248 euro, 12 euro in più rispetto al 2011. In aumento anche la frutta secca più 4,4%, il salmone più 2,1%, le cozze più 3% e i calamari più 11,2%.